Pare proprio che la coppia Cecilia Rodriguez e Ignazio Mosè si siano lasciati. Ma non avevano annunciato solo a novembre le loro nozze? Cosa è successo? Insomma, dai social si vede che Cecilia si è tolta l'anello di fidanzamento e da fonti vicine pare che abbia cacciato fuori di casa Ignazio e abbia annullato il matrimonio. Ma cosa è successo? Insomma, sembra che Cecilia abbia scoperto un tradimento di Ignazio. Sarà veramente finita una delle storie più belle dello spettacolo italiano? Era una coppia che vi piaceva? Fatecelo sapere qui sotto. Invece se volete essere sempre collegati con tutto il gossip del momento cliccate su www.donaglamour.it Vi aspettiamo!